Il Partito Democratico fa la sua parte con senso di responsabilità, non pensando alle prossime elezioni, i cittadini sono in grado di giudicare se questo Veneto oggi è governato visto che è in esercizio provvisorio da cinque anni, perché sono stati cinque anni di esercizio provvisorio. Lo facciamo con senso di responsabilità pensando alle tante persone, associazioni, lavoratori, imprese che attendono questo bilancio e senza questo bilancio rischiano di avere un impatto ancora più negativo della crisi. Quindi questo è il senso di responsabilità che abbiamo. Certo c'è un limite questo senso di responsabilità perché vorremmo che la maggioranza in qualche modo fosse in aula. Zaia non c'è mai, non ci sono gli assessori, non c'è raggiunta, sono sempre assenti e non è pensabile di poter portare a termine un bilancio in tempi rapidi. Siamo una delle ultime regioni nell'approvazione del bilancio, già questo la dice lunga sui ritardi di questa regione. Intanto il primo gruppo in consiglio regionale è il gruppo del Partito Democratico e i consiglieri che fanno parte dell'opposizione sono il primo raggruppamento, perché oggi la maggioranza attorno a Zaia può contare su 17 consiglieri, su 60. C'è una parte che ovviamente sostiene Tosi, sono 19 consiglieri e l'opposizione è il raggruppamento più vasto, più grande del consiglio regionale. Quindi questo la dice lunga su come chi oggi si presenta per riproporsi al governo della regione in realtà ha sciolto la sua maggioranza, metà della sua giunta gli lavora ormai contro e questo la dice lunga su come sono stati incapaci di governare questo Veneto, non dare risposte alle domande dei cittadini del Veneto. Quattro settori, li abbiamo annunciati all'inizio e continuiamo a ribadirli. Il sostegno alle imprese attraverso il sistema delle garanzie dei confidi, a coloro che hanno perso tutti gli ammortizzatori sociali, quindi con i lavori socialmente utili. Vogliamo garantire che a settembre le scuole professionali possano riaprire con i loro corsi per i tanti giovani del Veneto e infine che si sostengano quelle forme e quei servizi che guardano alla popolazione più esposta alla fragilità sociale. Questi sono i nostri quattro punti fondamentali. Noi continueremo a restare in aula perché il Veneto ha bisogno di un bilancio e il rischio che non venga approvato e si vada a una gestione provvisoria è da evitare, significerebbe praticamente la paralisi del Veneto. Una gestione provvisoria significa che possono essere pagati solo gli stipendi e le corrette e quei servizi che non possono essere interrotti perché sono pubblici servizi. Tutto il resto non può essere fatto, quindi non ci saranno più i contributi per i lavori pubblici, non possono essere erogati i fondi europei, proprio il minimo indispensabile.